Sai che i laureati in biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie possono accedere alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria? L'Ateneo di Sassari offre tre scuole, in microbiologia e virologia, scienza dell'alimentazione e patologia clinica e biochimica clinica. Oltre ad offrire una preparazione approfondita, le scuole permettono di accedere a ruoli di dirigenza nel sistema sanitario nazionale. Grazie